È stata inaugurata a Cesano Maderno la nuova velostazione, così passiamo da un parcheggio a una velostazione. Il progetto a cura dello studio LFL Architetti cerca di impostare un rapporto visivo con la stazione ferroviaria adiacente. I due fronti principali della velostazione sono stati pensati in maniera diversa, differente. Infatti il prospetto rivolto alla stazione ferroviaria è composto da lastre di vetro temperato e serigrafato applicate poi ad una struttura metallica. Il secondo fronte è invece la combinazione fra l'uso del telo colorato a chiusure di acciaio e pannelli di rete verniciati Corten.